Che tocca fare a sto mondo per vivere? Ma cosa tocca fare? Però noi andiamo verso l'infinity e oltre. Ma perché? Perché Toy Story è solo l'inizio, verso l'infinity. E oltre! Ma perché? Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in un video di Matti Vape sul canale di Matti Vape per una recensione di Matti Vape. Come avrete capito, oggi parliamo dell'infinity, del piadinaro dello svapo e di Morris. Mi è stato fatto provare da Scarf e poi talmente ero inscimmiato e vi ho chiesto a Mazza di mandarmene 65 boccette. E questo è il secondo chubby che sta per... Cioè è iniziato due giorni fa, ok. È iniziato due giorni fa ed è verso l'utilizzo. L'infinity! Oggi lo proverò su questa meraviglia qua. Di questa roba qua ve ne parlerò poi più avanti perché c'è tutto un altro discorso da farci. Però vi basti sapere che sto utilizzando le testine del Nautilus 2 e che all'interno di questa box qua c'è stato solo quel liquido lì. Quindi lo andiamo a provare e poi vi dico cosa ne penso. Fuuu. Non sono credibile se vi dico che l'ho appena provato, vero? No, lo sto usando da tanto. È da tanto che avevo promesso anche a Mazza che avrei fatto il video. Sono stato parecchio impegnato e il video non l'ho potuto fare prima. Però ragazzi, l'infinity è veramente assurdo. Quanto è buono, madonna quanto è buono. Allora, è un liquido che non è scontato. Io alle volte sento del caffè all'interno. Alle volte non ce lo sento. Alle volte mi viene da pensare che mi prendono per il c***o e cambiano ingredienti del liquido ad ogni svapata. E altre volte non lo so. Ragazzi, è buonissimo secondo me. Arriva in formato aroma, perché l'infinity è in aroma, non è un liquido pronto. Lo potete fare da cloud, lo potete fare da guancia. Io lo sto utilizzando a 50-50 con la questina da 0,7 del Nautil 2 a 20 watt. Con un leggero flavor, diciamo. Spacca il c***o. Spacca il c***o. Provandolo invece con il tiro più da guancia. Escono fuori le note un pochettino più acidule del liquido. Però so che c'è all'interno una base di ribes nero. Tanta roba, ragazzi. Veramente tanta, tanta roba. Mi piace da impazzire sto liquido. In più, consiglio anche le testine del Nautilus 2 per chi utilizzi la billet o anche il Nautilus 2 e basta. Per usarle da un simil tiro di polmone, flavor, insomma. Da veramente bene. Che dire, ragazzi. Questo, cioè, Maurice, mazza. Complimenti. Avete fatto veramente una droga. Io non riesco ad uscire di casa senza l'infinity. Maledetti che non siete altri. Vi avete rovinato assassini bastardissimi perché è veramente buonissimo. Dove acquistarlo? Io non ve lo so dire. Io l'ho acquistato da Swapem. E ringrazio ancora i ragazzi di Swapem che me l'hanno mandato all'ultimo con dei super casini. Grazie mille. E che dire, signori. Se volete un liquido che veramente vi crei una dipendenza ed è diverso, impossibile da associare a qualunque altro liquido che abbiate provato fino ad ora, prendetevi l'infinity. Una bella base. Viene diluito al 10%. Vi prendete qua il ciabone. Insomma, io mi faccio i ciabettoni da 120 ml con quasi tutta la boccia. Adesso mi pare che sia da 15 ml o da 20 non ricordo. È al 10%, insomma, ragazzi. È potentissimo, è buonissimo e mi piace veramente. Tanto. Quindi, con l'ultima svapata vi saluto. Sono un primo di avervi ricordato di acquistare l'infinity perché è potentissimo. Ma anche di iscrivervi al mio canale. Andare a cercare, ma sicuramente lo conoscete. Se conoscete me e non conoscete il piadinaro dello svapo, avete dei problemi. Andare a cercare il canale del piadinaro dello svapo che metterò comunque in descrizione. Andare a comprare ancora l'infinity. Compratene perché è veramente buono. E non sporca un c***o le coil. Ma soprattutto, in un giorno e mezzo, è già macerato alla perfezione ed è un shake and vape. Potreste usarlo fin da subito. Detto ciò, iscrivetevi al mio canale. Condividete il video. Attivate la campanella se siete nuovi. O se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella perché sta arrivando Natale. Quindi arrivano anche i re magi. Grazie a Scarfi per avermi fatto scoprire questo liquido. Il piadinaro per avermelo mandato. Maurice per avermelo fatto acquistare velocemente. E dopo tutto, ciao con l'ultima svapata. Vi saluto verso l'infinity e oltre. Ciao! Ultima, 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 Ultima.